La promessa anticipazioni. Attenzione, fan della promessa! Siete pronti a scoprire un segreto che cambierà per sempre il destino dei protagonisti? Quello che sto per raccontarvi è davvero scioccante. Ci sono verità nascoste, rivelazioni inaspettate e colpi di scena che vi lasceranno senza parole. Ma attenti! Queste anticipazioni provengono direttamente dalle puntate già trasmesse in Spagna e potrebbero svelare dettagli cruciali della trama che qui in Italia arriveranno solo tra qualche mese. Siete curiosi di scoprire cosa accadrà ai personaggi della promessa? Prima di continuare, se vorresti ricevere nuovi video in anteprima su La promessa, scrivi sì nei commenti. Ricominciamo! La madre di Yana, che tutti credevamo morta, è in realtà viva. Dolores ritorna in scena in maniera spettacolare, proprio durante una delle cene più importanti della famiglia. Ma cosa significa il suo ritorno per il destino di Yana e Manuel? E qual è il segreto che Cruz, la Marchesa, ha cercato di nascondere per così tanto tempo? Durante quella cena fatale, Dolores svela un segreto devastante. Cruz ha tentato di ucciderla anni fa, per proteggere una verità oscura, che minaccia di distruggere la famiglia dei Marchesi. Immaginatevi la scena. Cruz, pallida e tremante, che cerca di fermare Dolores, ma ormai è troppo tardi. La verità è lì, davanti a tutti. Il mondo perfetto di Cruz crolla, e con esso, le vite di chi la circonda. Yana, che fino a quel momento aveva solo sentito il peso delle minacce e del disprezzo della Marchesa, si ritrova in un vortice di emozioni. Ma ora tocca a voi. Che ne pensate di questo colpo di scena? Avete mai immaginato che la madre di Yana potesse essere ancora viva? Fateci sapere nei commenti le vostre teorie. Cosa pensate che accadrà ora tra Yana e Manuel? Riusciranno a sfuggire alle grinfie di Cruz, o il loro amore è destinato a finire? Diteci la vostra opinione. Ma non è tutto. C'è molto di più in gioco. Manuel, lacerato tra l'amore per Yana e la lealtà verso la sua famiglia, propone qualcosa di impensabile. Fuggire insieme. Lasciare tutto alle spalle. Dimenticare le bugie. E vivere un amore libero. Yana, seppur tentata dall'idea, esita. C'è qualcosa di più grande in ballo. Una missione personale che sente di dover portare a termine. Ma cosa può essere così importante da impedirle di scappare con l'uomo che ama? Nel frattempo, Dolores non ha ancora finito di svelare i suoi segreti. Ci sono transazioni illecite, bugie che si estendono per anni, e persone corrotte che potrebbero venire allo scoperto. La posizione di Cruz è sempre più instabile. Ma c'è un segreto che potrebbe essere il colpo finale. Cruz non è la vera erede della famiglia dei Luan. Quello che Dolores ha scoperto potrebbe distruggere tutto ciò che la Marchesa ha costruito in tanti anni di inganni e manipolazioni. E ora, eccoci al momento clou. Proprio quando pensate che la tensione non possa crescere ulteriormente, una lettera misteriosa arriva a Villa Marchesi. Una lettera che sembra scritta dalla stessa madre di Yana, contenente dettagli che solo lei poteva conoscere. Possibile che Dolores sia davvero sopravvissuta a tutto quello che le è stato fatto. Quali altri segreti si nascondono dietro la sua apparente scomparsa? Ma ecco dove vi lascio in sospeso. Per ora. Perché il prossimo episodio della Promessa promette di svelare altre verità che cambieranno per sempre il corso della storia. E voi? Siete pronti a scoprire cosa accadrà? Avete già teorie su cosa potrebbe celarsi dietro queste rivelazioni? Scrivetelo nei commenti e restate con noi, perché le sorprese non sono finite. Vi aspetto al prossimo video, dove vi racconterò tutto quello che accadrà nella cena più sconvolgente della serie. Non dimenticate. La promessa è piena di segreti. E solo chi continua a seguire la storia fino alla fine potrà scoprirli tutti. Grazie. Grazie.